Comprare casa in sicurezza, i documenti da controllare. Prima di fare una proposta d'acquisto per una casa, è fondamentale controllare diversi documenti per evitare rischi. L'acquisto di una casa richiede tempo, sacrificio e risparmi. Ecco perché è essenziale assicurarsi che tutta la documentazione sia in regola. Verifica la storia dell'immobile, le conformità urbanistiche e catastali, il certificato di abitabilità e quello degli impianti. Per comprare casa in sicurezza controlla l'APE, i verbali delle assemblee condominali e se ci sono spese straordinarie in arrivo.